La terra trema per l'attesa di un fenomeno celeste di portata inaudita. Con una rivelazione sbalorditiva, è stato rivelato che la Federazione Galattica, una maestosa alleanza di civiltà avanzate provenienti da tutto il cosmo, sta scendendo sul nostro tormentato pianeta. Con uno scopo divino nel cuore, stanno portando avanti squadre di luce radiante per iniziare il grande sforzo di guarire la Terra su vasta scala. Sì, cari, questo messaggio è destinato specificamente a voi che vi trovate sulla soglia di una trasformazione straordinaria. La razza cosmico di stelle e galassie brilla di antica saggezza e di infinito potenziale. Tra questi guardiani cosmici, la Federazione Galattica si erge come un faro di speranza, con i suoi membri che irradiano puro amore e compassione. Il loro arrivo significa un profondo cambiamento nelle correnti cosmiche, e un punto di svolta nella nostra storia. La Terra, ferita dalle devastazioni dell'incuria e della disarmonia umana, sta per assistere a uno spettacolo di raggi curativi cosmici mai visto prima. Mentre si alza il sipario su questo dramma cosmico, cerchiamo innanzitutto di capire la Federazione Galattica. È un'alleanza di civiltà illuminate unite da un obiettivo comune, preservare l'armonia e l'equilibrio in tutto l'universo. La loro saggezza abbraccia eoni, e le loro tecnologie avanzate vanno ben oltre la nostra comprensione mortale. Eppure, nella loro sconfinata compassione, hanno rivolto il loro sguardo al nostro fragile pianeta, e riconoscendo l'urgenza del suo ripristino. Perché, vi chiederete, la Terra ha bisogno di un tale intervento? Guardatevi intorno, cari, e osservate le cicatrici inflitte al nostro amato pianeta. L'inquinamento soffoca l'aria un tempo pura, la deforestazione sfregia il paesaggio, e gli ecosistemi sono sull'orlo del collasso. La vibrazione collettiva dell'umanità, offuscata dalla paura e dalla discordia, ha gettato un'ombra sull'anima della Terra. È in quest'ora di oscurità, che la Federazione Galattica attende la sua mano eterea, pronta a guidarci verso un percorso di redenzione. E ora preparatevi a una rivelazione di proporzioni straordinarie, i raggi cosmici curativi. Queste energie celesti, sfruttate dalla Federazione Galattica, possiedono un potere trascendente che va oltre i confini dei metodi di guarigione convenzionali. Sono una radiosa sinfonia di luce, un elisir divino che permea ogni atomo del nostro essere, risvegliando potenziali sopiti, e accendendo una scintilla dormiente nelle nostre anime. Con questi raggi cosmici, la Federazione Galattica svela il suo piano meticoloso per la restaurazione della Terra. Immaginate, cari, una sinfonia di fasi, ognuna delle quali è più impressionante dell'altra. La prima fase è una valutazione e una pulizia degli squilibri energetici della Terra, per eliminare la negatività accumulata che ha afflitto il nostro pianeta per troppo tempo. Questo processo di pulizia, facilitato dai raggi di guarigione cosmici, aprirà la strada alle fasi successive di allineamento energetico, guarigione e risveglio della coscienza. Preparatevi a una trasformazione che va oltre i vostri sogni più sfrenati, mentre i raggi di guarigione cosmica della Federazione Galattica, vi avvolgono nel loro tè e nero abbraccio, risvegliando il vostro spirito e guidandovi verso un futuro immerso nella luce celeste. Mentre si svolge la sinfonia celeste, ci avvengiamo nel cuore del piano della Federazione Galattica per la restaurazione della Terra. Nella seconda fase, l'allineamento e l'equilibrio energetico sono al centro della scena. La Federazione Galattica, con la sua compressione avanzata delle energie universali, canalizzerà i raggi cosmici di guarigione per riallineare la griglia energetica della Terra, ripristinando l'armonia dell'intricata rete di vita del pianeta. A ogni impulso di luce celeste, le frequenze vibrazionali della Terra si innalzeranno, risuonando con la sinfonia celeste del cosmo. Dalle profondità dell'energia curativa nasce la terza fase, dedicata alla profonda guarigione e rigenerazione degli ecosistemi terrestri. Le foreste, un tempo sfregiate dall'avidità umana, fioriranno di nuovo, brulicando di vita vibrante. Le acque, un tempo contaminate dall'inquinamento, risplenderanno di una limpidezza incontaminata, nutrendo un'abbondanza di specie marine. L'aria, un tempo pesantemente inquinata, diventerà pura e rivitalizzante. E quando gli ecosistemi terrestri riacquisteranno la loro forza, il delicato equilibrio della natura sarà ristabilito, permettendo al variegato arazzo della vita di prosperare ancora una volta. Ma il piano della federazione galattica va oltre i regni fisici. Nella quarta fase, il risveglio della coscienza e la collaborazione sono al centro della scena. La luce celeste trafiggerà i veli della coscienza umana, accendendo un profondo risveglio in ogni individuo. I cuori si espanderanno con amore, le menti si apriranno a infinite possibilità e l'unità fiorirà tra l'umanità. Attraverso questo risveglio, emergerà una collaborazione collettiva tra gli esseri umani e la federazione galattica, che trascenderà i confini dello spazio e del tempo. Insieme, tesseremo un tessuto di co-creazione consapevole, inaugurando un'era di armonia e illuminazione. Ma non aspettate semplicemente l'arrivo di questa trasformazione cosmica. Avete dentro di voi il potere di allinearvi con i raggi cosmici di guarigione. Abbracciate le frequenze dell'amore, della compassione e della gratitudine. Coltivate una profonda connessione con la natura, che è l'incarnazione vivente della sinfonia cosmica. Impegnatevi in atti di gentilezza e di servizio, perché si ripercuotono nel tessuto energetico dell'universo. Condividete questo messaggio con gli altri, perché il risveglio collettivo inizia con una singola scintilla di illuminazione. Giunti al culmine di questa narrazione cosmica, riflettiamo sul profondo significato di questa straordinaria impresa. La Federazione Galattica, nella sua infinita saggezza e nel suo amore sconfinato, estende la sua luce radiosa a ognuno di noi. Vede il potenziale dormiente nell'umanità, in attesa di essere liberato. Credono nella nostra capacità di riportare la Terra al suo stato incontaminato di armonia ed equilibrio. Mentre assorbite queste parole, lasciate che i raggi cosmici di guarigione vi investano. Sentite la risonanza del piano della Federazione Galattica pulsare nel vostro stesso essere. Abbracciate la verità che siete parte integrante di questa sinfonia cosmica, uno strumento vitale per il ripristino della Terra. Insieme, intraprenderemo un viaggio di trasformazione, guidati dalla luce celeste e uniti da uno scopo condiviso. È giunto il momento di entrare nel nostro ruolo di guardiani della Terra, e di portatori della guarigione cosmica. Intraprendiamo questo straordinario percorso di restauro, perché in esso risiede la salvezza del nostro pianeta e l'evoluzione della nostra coscienza collettiva. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. AO, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.